Salve a tutti Blazers, buon lunedì e buon inizio di settimana e bentornati nella serie di sopravvivenza Ragazzi, settimana scorsa la serie è mancata, ho saldato qualche appuntamento Credo di aver portato un episodio solo, forse due, non mi ricordo bene Comunque, sì, avevo da fare, come sapete benissimo, quindi ho un attimino diminuito anche il ritmo di pubblicazione della serie Ma oggi torniamo alla grande, perché vi faccio vedere subito l'inventario Guardate che cosa ho qui, secondo voi che cosa vado a costruire con questi item che ho portato? Allora, questa è l'armatura che ho tolto, che dovrò mettere da parte, che non c'entra niente, ve lo dico subito Ma questi item qua servono a fare qualcosa, vediamo se indovinate nei commenti ora che cosa vado a fare Ma probabilmente l'ho già scritto nel titolo, quindi sono stupido e quindi niente, il gioco non vale e lo sapete già Sì, oggi ci occuperemo di circuiti e aggiorneremo un altro settore della base che rimane molto antiquato Quindi lo volevo aggiornare, ma prima ragazzi devo prendere della sabbia perché devo fare una cosa importante Prima ancora direi di andare a dormire, tanto per cambiare C'è una cosa che so che ha tiltato molti di voi, maledetto, vattene subito Non voglio più fare i test sull'armatura, l'armatura è a posto, ok? Non mi fa niente con le esplosioni, ma la base non ha l'armatura, quindi non esplodere creeper Detto ciò, stavo dicendo, c'è una cosa che a voi tilta molto, almeno ad alcuni di voi tilta Perché se io vado qui dentro, che cos'è che non va qui dentro? Ci sono dei pot e questi pot come non sono? Non sono bardati, ricordate della vecchia, del vecchio tormentone del bar del pot? Ecco, ora io mi metto qui e bardo tutto quanto il pot Perché sto bardando il pot? Perché vi devo svelare una cosa che potrebbe far piacere a molti di voi Infatti ragazzi, ho deciso, attenzione, di rimettere in commercio solo per una settimana, solo fino a domenica a mezzanotte Le magliette storiche, barda il pot, le mie primissime magliette È stata proprio la prima maglietta che io abbia mai fatto Maglietta che ho portato all'epoca solo in fiera E tanti di voi non l'hanno mai potuta prendere Quindi, visto che in passato me l'hanno chiesto in tanti e magari a qualcuno interessa ancora Ho deciso di fare questo eventino E di mettere una ristampa solo per una settimana Online questa volta, quindi la potrete prendere tutti Trovate il link in descrizione e anche nelle schede e sotto al video Quindi, ragazzi, se vi interessa, le magliette barda il pot ritornano per una sola settimana E le trovate ora, nello shop ufficiale E i pot sono anche bardati Calcolate una cosa, se invece voi siete tra... Uh, che spavento, c'è un cavallo scheletro qui in mezzo, non me lo aspettavo Se siete tra quelli che hanno preso all'epoca la maglietta in fiera E volete avere l'esclusività della cosa State tranquilli, perché la maglietta che va in ristampa è leggermente diversa Ha un contorno nella stampa bianco che aiuterà nella versione nera Questo contorno prima non c'era E che cosa significa ciò? Significa che le originali saranno comunque distinguibili dalla ristampa Non cambia niente, però, per chi è fissato con la prima edizione La ristampa, le differenze Sappiate che c'è questa piccola differenza Che ho messo, sia perché era utile nella stampa di adesso Sia per, appunto, differenziare un poco Così siamo tutti contenti Ora, ragazzi Ora, dobbiamo andare un attimo qui fuori Perché, come sapete, qua una volta c'erano delle scale Le scale non ci sono più Ne abbiamo delle ascensori Le scale ingombranti hanno lasciato posto a questi ascensori ad acqua Molto comodi E soprattutto a un ingresso avvolto nel verde Che, insomma, riporta un po' a uno stadio di natura Questa parte della base Ma non è l'unica zona che richiederebbe un aggiornamento Infatti abbiamo aggiornato il passaggio lì sopra Con l'uscita che va verso la farm e va verso l'alto Ma la prima, la primissima entrata slash uscita della base Non era né una né l'altra Era questa qui E lo è tuttora Questa è la prima entrata mai fatta nella base Ancora prima del mondo in 1.7 Quando proprio la montagna l'ho trovata per la prima volta C'era la cascata E c'era questo ingresso Ovviamente è stata aggiornata nel corso del tempo Ma abbiamo sempre fatto questa scala per salire in base Ora, non la usiamo più questa scala Perché rispetto all'ascensori e all'elitra è altamente scomoda Ho pensato fosse arrivato il momento di aggiornare anche quest'area Ma c'è un ma importantissimo Questa cascata e questa scalinata è un'icona È il primo ingresso della base Mai sognerei di toccarla, di rimuoverla Ma solo magari di modernizzare attorno Come abbiamo già fatto in passato con L'eye wall è la definizione di questa sorta di laghetto, di stagnetto Quindi non voglio mutare nulla Voglio lasciarla così Ma voglio creare un altro ascensore di un tipo diverso Con un passaggio nascosto nella cascata Perché se noi andiamo qui Dietro il manto dell'acqua della cascata C'è uno spazio già scavato pronto per costruire un ascensore Quindi ragazzi, vicino alla scala Sorgerà una moderna ascensore automatica Che utilizzerà gli slime in un modo molto particolare Quindi ragazzi, c'è l'acqua L'acqua non piace tanto ai circuiti Ma proveremo a incastrare per bene tutto Allora, per prima cosa Dobbiamo mettere giù un pistone Un primo pistone Che andremo a mettere esattamente in questo punto Ma in realtà Potrei farlo un po' più in alto Probabilmente sì Quindi andiamo a metterlo un blocco più in alto Allora, togliamo tutto questo Prendiamo un attimo la terra E creiamo un fondo per alzare tutto Ora, c'è un problema La cascata qui è entrata in quest'area Dove non dovrebbe mai nella vita entrare Quindi magari se io andassi un attimino A delimitare la cascata in questo modo Possiamo ricreare la sua forma E magari, con un po' di fortuna Non cola più all'interno Anche se ne dubito altamente Eh no, infatti non ne vuole sapere Vabbè ragazzi Troveremo un altro modo Allora, quello che andiamo a fare È appunto mettere un pistone qui Questo pistone sarà collegato Subito subito a uno slime block Che mettiamo invece in questo punto Questo slime block Che si andrà ad appiccicare I blocchi attorno Quindi avrà bisogno di blocchi Che non si muovono Come per dire La glazed terracotta Il problema è questo slab Questo slab verrà sicuramente alzato E pertanto andrà a togliere A rovinare una scala Quindi andiamo a rimuovere Giusto la scala in basso Fermo restando che Eh Qui non possiamo più salirci Quindi in realtà qua Andrebbe rimosso anche questo Andrebbe subito messo Un blocco di questi qua Che comunque non ci sta neanche troppo male Andiamo quindi a fare questo lavoro E possiamo salire Magari però Qui frontalmente Al posto di cambiare proprio tutto drasticamente Ci possiamo mettere una semplice scala Pertanto mettendo la scala Abbiamo appunto La scala che si alzerà Non ci disturberà più di tanto la cosa E qui possiamo comunque Raccogliere le scale a pioli Quindi il problema è praticamente risolto Ora il problema Da questa parte È l'acqua che si infiltra Questo è un bel problemino Comunque dobbiamo mettere I nostri blocchi Inamovibili E li mettiamo attorno allo slime In questo modo Andiamo a mettere Momentaneamente Anche della terra Qui E qui In modo da proteggere Il primo pezzo di circuito Che andrà qui sotto Dove appunto Devo mettere Un blocco di redstone Devo metterci Il blocco Inamovibile Qui Un altro blocco Lo andiamo a mettere Qui sotto E dobbiamo mettere Del Un redstone repeater Non del Un redstone repeater Qua Il quale poi Andrà circondato Da due blocchi In questo modo E infine Possiamo mettere Della redstone Qui E qui Ora ragazzi Tutto ciò Vi devo dire Che sto seguendo Il tutorial Di un canale Chiamato FedX Gaming Perché Avevo Ho provato a farla Da sola In realtà Ma non mi funzionava Una parte Quindi ho detto Vabbè Seguiamo un tutorial Che già È bello funzionante Sappiamo come farlo Quindi detto ciò Questa corrente D'acqua Io la devo fermare In qualche modo Perché So già che farà Grandi drammi Quindi se noi facciamo Semplicemente Quella non dove andare lì Ho modificato per sempre La cascata Vero? Potrei aver fatto Un piccolo casino Ok Allora Calmi Calmi tutti Io devo mettere Questo Qua Questo Qua Di fianco E scendiamo In modo da Bloccare L'acqua Ok Ora vediamo Se Questa forma Che ho messo Sarà compatibile Col circuito Ora ragazzi Riprendiamo la terracotta E andiamo a mettere I nostri blocchi Qui Se notate Li sto orientando Tutti Nello stesso modo A parte quello sotto Che però Essendo sotto Non si vedrà Quindi non ci interessa E In modo da non impazzire Troppo con l'orientamento Perché sarebbe un po' Un casino Fatto ciò Sopra questi blocchi Devo poi metterci Altri blocchi Normali Quindi in questo caso Io ci vado ad appizzare La pietra Calcolate che la parte Di circuito Se riusciamo a nasconderla Tutta Lo facciamo volentieri Altrimenti Studieremo alla fine Un modo per coprirla In modo che non si veda Anche se tutto è coperto Dall'acqua Alla fine Quindi Fatto ciò Andiamo a prendere Un pulsante Lo mettiamo qui E in teoria Questo primo slime block Dovrebbe funzionare Quindi proviamolo Non funziona Perché non funziona? Perché il pistone Il pistone Sì ciao Il pulsante Va dall'altra parte È anche giustamente Se no come fa Ad arrivarci il segnale Ok funziona Molto bene Fatto ciò Aspetta fammi risalire Un attimino Così è anche più comodo Dobbiamo prendere Uno sticky piston Che andiamo a mettere qua E uno sticky piston Che andiamo a mettere qua Il secondo slime block Il vetro ve lo ricordo Ma mi attengo Alla guida originale E vado ad utilizzare I vecchi I buon vecchi slime Si slime Perché non so parlare oggi I buon vecchi slab In questo caso Li usiamo di pietra Ne mettiamo uno qui Che andrà ovviamente Con Il Con la redstone Giustamente E un altro Lo mettiamo qui Con un'altra redstone Dopodiché Qua Subentra un problema Perché in realtà Noi qui abbiamo bisogno Di più spazio Devo andare a mettere Infatti un blocco Di pietra In questo caso Lo mettiamo qui Un repeater In questo modo E il repeater Va ritardato Tre volte Che in realtà Per fare il ritardo Di tre Devo metterlo a due Perché già di base È Valore uno Che però non ritarda Ok Così va fatto Quindi Di mezzo Diciamo Dopodiché Questo Repeater Deve puntare a un blocco Che noi abbiamo già messo Dall'altra parte Del blocco Dobbiamo andare a mettere Una redstone torch Ecco Ora io voglio Non vorrei andare A fare il casino Quindi dovrebbe essere Il blocco qua sotto Ok Andiamo a mettere Quindi una redstone torch Qui sopra Appesa Sopra Dobbiamo mettere Un altro blocco Che però Mi è andato ad attivare questo Quindi togliamo un attimino Andiamo a prendere Un'altra terracotta E la vado a piazzare Qui sopra Perché ha usato poi Questa terracotta Perché è un grigio Che va un po' A mischiarsi alla pietra Quindi si confonde un po' Rispetto alle fornace O l'ossidiana Che bloccano Gli slime La terracotta Ti dà opportunità Anche colorate In questo caso Quella grigia Si può confondere meglio O almeno a mio parere Quella grigia chiara Pure Ma ha dei dettagli Troppo vistosi Secondo me Comunque Andiamo a rimettere Il blocco Qui Me l'ha spostata Aspetta È vero La terracotta Si può Spostare Ma non si appiccica Io ho bisogno Di qualcosa Che non si sposti In questo caso Questo è un problema Abbiamo bisogno Comunque di una fornace Mi sa Mentre laggiù Non si appiccica Quindi va bene così Qui invece Dobbiamo proprio bloccare Allora andiamo a farci Delle fornace Per forza di cose Questa volta Quindi Tornando a noi Io devo mettere Una fornace qui Ribaltata Purtroppo Sarà un po' Un misto di blocchi Questo ascensore Ma È un po' grezzo Perché si vedono sempre I pistoni Gli slime Quindi non si può coprire Neanche internamente Volendo Comunque Mettiamo Il Dannatissimo Blocco qui E in questo caso Non si solleva E devo andare Dall'altra parte Questa volta Pregare Che non entri l'acqua E non entra l'acqua E mettere L'ultima torcia qui Che si spegne E che però Ha attivato il pistone E questo Forse non lo doveva fare Perché? Ok ragazzi In realtà Era perfettamente giusto L'unico fatto è che Oltre ad avere Questo blocco sopra La torcia Di nuovo Ne aveva un altro ancora Che trasmetteva il segnale Che quindi ha fatto Scattare Il tutto In realtà Era corretto Quindi L'importante è che Questa parte Con torcia Più blocchi Non abbia altri blocchi In mezzo alle palle Deve essere proprio Fatta così Perché se no Rischia di non funzionare Io quindi ho tolto L'ultimo blocco Che bloccava un attimino Lo scorrere dell'acqua Ma adesso siamo a posto Perché come vedete Abbiamo Una bella colonna Libera Da tutti I problemi Che avevamo prima A questo punto Dovremmo essere già in grado Di far funzionare Il secondo slime Quindi vediamo Se fa il secondo rimbalzo Allora vai Sì Allora esce lo slime Ma non mi fa rimbalzare Giusto Esatto Quindi non si attiva Questo pistone Come dovrebbe Proviamo un attimino A continuare Mettendo Altri blocchi Perché forse triggerano Come prima C'era un blocco di troppo Forse adesso ce n'è uno di meno Vediamo Esatto Sì Come vedete È uscito fuori Ci manca un po' di tempismo Perché vedete Lo slime di sopra Esce E spinge verso l'alto Che è quello che deve fare Il problema è che nel farlo Deve avere un tempismo tale Da spingermi subito Non mi deve fare aspettare così Perché se mi fa aspettare Non mi dà potenza Aveva troppo ritardo Il repeater Ragazzi c'è qualcosa Che non va Forse esce troppo presto Invece Forse esciva troppo presto Vediamo così No Ok in questo caso Ho fatto un po' un casino Perché Si è bloccato tutto Dunque ragazzi È passato un po' Dall'ultimo taglio Perché Era un disastro La situazione Il fatto è questo Il circuito è molto Vecchio Di qualche anno fa E nel frattempo Hanno cambiato i timing Della redstone di minecraft Questo è un disastro Perché settando i repeat Era vari ritardi Non riuscivo a far combaciare I due salti Quindi il tentativo estremo È stato In realtà Alzare Il pistone Di uno E vedere se è così Ok vedete Ci arriviamo sopra Comunque Dobbiamo capire Se riusciamo Oh Fatto Mio dio ragazzi Allora La soluzione Però non lo hitta sempre Avete visto sta cosa Questa cosa dà un fastidio boia Non Non va a rimbalzare Esattamente Sempre Proviamo a fare una cosa Allora Aspetta Andiamo qui Ritardiamo al massimo Il repeater Vediamo se mi fa saltare Per bene Ok no In realtà no ragazzi Forse devo Metterlo più veloce Invece Così Proviamo così Ragazzi Ultimo tentativo Perché se no Non so che altro fare Ok Ok Vediamo se funziona di nuovo Yes Ce l'abbiamo fatta Allora Come ho risolto Questo passaggio Ho alzato Tutto il circuito Di un blocco Fino ad arrivare Questo pistone Più in alto Perché a quanto pare Si salta di più Con gli slime E ora questo repeater È a un solo movimento Quindi dovrebbe essere Due tick Se non erro E vedete che qui Ho messo questo pezzo Aggiuntivo Per alzare tutto Di un blocco Senza andare a mutare Il circuito stesso Quindi Fatto ciò Dobbiamo andare avanti Perché ci serve Un'altra sezione Quindi Arrivati a questo punto Riprendiamo la nostra terracotta Dobbiamo metterne Due di qua Ne mettiamo Altre due di qua In modo da avere I blocchi Che non vengono tirati Prendiamo la pietra E ci alziamo Di Tre blocchi Quindi Uno Due E tre Fino ad arrivare qui Questo via Che non c'entra niente Andiamo a mettere Un altro sticky piston qua Un altro sticky piston Che Andrebbe Con Le spalle Contro la cascata Vediamo se Ok Lo sono riuscito a piazzarlo In qualche modo Perfetto Ritiriamo questo Andiamo a prendere Lo slime Di nuovo Lo mettiamo qui E ci prepariamo Già un'altra fornace Che andiamo a mettere Qua Anche qui Possiamo già mettere Gli altri blocchi Però Aspettiamo un attimo Così facciamo il circuito Dietro Circuito Che va ripreso Dalla Posizione Delle torce Quindi dobbiamo andare Un attimino Dall'altra parte Boom E dobbiamo calcolare Che qua arriva La redstone torce Quindi essenzialmente Qui arriva la redstone torce Che abbiamo messo prima Dobbiamo prendere Quindi i nostri blocchi Avrò bisogno anche Di altra pietra Molto presto E mettiamo Due blocchi qua E un terzo blocco Lo mettiamo qui Andiamo a prendere La redstone E copriamo Tutti questi Quattro blocchi Poi dobbiamo Prendere Il mezzo blocco O il blocco di vetro Secondo dei gusti Lo mettiamo qua Quindi ancora redstone Mettiamo qui così E di nuovo Mezzo blocco E redstone Arrivati a questo punto Siamo nella situazione Di prima Quindi il circuito Si ripete Il che vuol dire Che qua andrà messo Il repeater E così via Siamo in un momento critico Perché avendo già Modificato il circuito Una volta Bisogna vedere Come sarà il tempismo qua Comunque Andiamo a prendere Il blocco di pietra Direi Lo mettiamo Qui Qua ci va Il nuovo repeater Che a questo punto Io lo metto A ritardo massimo Perché mi ispira Ma non sono sicuro Che questa cosa funzionerà Andiamo a prendere Poi un altro blocco Di pietra E lo dobbiamo mettere Teoricamente Magari se Andiamo da questa parte Più semplice Lo mettiamo Lo mettiamo Qua Ok Andiamo a prendere La redstone torch Che avevo già in mano In realtà Quindi la mettiamo Qui Blocco Che va Qua Redstone torch Che va qui E che si spegne Blocco che va qua In teoria In teoria Ci dovremmo essere Blocco qui Blocco qui Mettiamo già la terracotta 1 e 2 1 e 2 E tra l'altro Siamo già vicini All'arrivo Che Non è centrato Proprio con la scala Che avevo preparato Ma vabbè Ci lavoriamo dopo Torniamo un attimino giù Facciamo una prova Vediamo se Scatta tutto Ok Scatta tutto Vediamo il tempismo Mi ha buttato fuori Allora Aspetta un attimino Riproviamo di nuovo Ok Ok Mi ha portato fin quassù Ma avete visto L'ultimo non mi spinge Non mi fa saltare Perché non mi fa saltare Perché il tempismo Non è messo bene Quindi proviamo A metterlo A 3 tick E vedere che cosa fa Ora dobbiamo Uscire ogni santa volta Da dietro Scendere giù Penso che così Ci potremmo essere Ragazzi Però ogni tanto Mi butta fuori E questo problema Lo puoi risolvere Mettendo dei blocchi davanti In modo che non ti chicca fuori Dall'ascensore Solo che noi abbiamo la scala Allora A me il tempismo Sembra funzionare Il problema è che Qua non abbiamo neanche spazio Per rimbalzare Quindi togliamo un attimino Questi blocchi Con molta cautela Perché non so Fin dove arriva l'acqua Quindi direi che così Ci potremmo essere Proviamo a scendere Fermati E facciamo il test Ragazzi Ok Ok ci siamo Avete visto Mi ha fatto rimbalzare per bene Non mi ha chiccato fuori Direi che ci siamo Perfetto Allora Adesso in teoria L'ultima cosa che resta da fare È mettere un punto dove Ci possiamo fermare Perché Qui abbiamo Abbiamo le scale Anche in mezzo le palle Quello che potremmo Pensare di fare È accorciare le scale E farle arrivare Tipo fino a qua Mettiamo caso E mettere qui un blocco Adesso è molto grezza La situazione Ma è solo per vedere Se funziona Quindi vediamo al volo Entriamo qui dentro Ok ragazzi Perfetto Mi ha fatto saltare Fin qua sopra E qui possiamo Salire a casa Quindi adesso Abbiamo un ascensore Che ci porta Qua sopra Ora Questo ascensore Ci è costato caro In realtà Perché al di là Dello sbattone Superiore al previsto È nascosto Ma in realtà È nascosto relativamente bene Perché i circuiti Non si vedono Si vede un po' di pietra Sotto Dalle forme particolari Si può provare a Sicuramente a coprire Mascherare tutto meglio Però non dà neanche Troppo fastidio Perché è nascosto Dalla cascata Qua lateralmente È bello Perché lo vediamo Diciamo in maniera frontale Il problema è la scala stessa Perché la scala Se non ci fosse Sarebbe sostituita Da dei blocchi Il che Mi risolverebbe Il problema Che Mi dà ogni tanto Cioè Il pistone Mi butta fuori Dall'ascensore Anziché portarmi su Quindi Potremmo valutare Effettivamente E togliere la scala Volendo Perché ora Come ora L'ascensore funziona E per il resto Dobbiamo solo Indrecciare bene I due metodi Di salita E che la scala Cioè Mi dispiace Togliere la scala Non la voglio togliere La scala Mi sono affezionato A sta scala Però vedete Tutto funziona bene Però ogni tanto Ti butta fuori Comunque ragazzi L'ascensore Lo abbiamo fatto Mi prendo del tempo Off camera Per sistemare Questo Casino Perché per il momento È una grezzata atomica Ma ci siamo E abbiamo un ascensore Con salita segreta Dietro Le cascate Bello Mi piace È stato soddisfacente Nonostante le difficoltà Fatemi sapere Cosa ne pensate E che cosa fare Per il problema Che ti chicca fuori Sulla scala Scala sì Scala no Fatemi sapere un po' La vostra opinione Detto ciò Noi ci salutiamo Un saluto da Ironblues Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.